Livia Livia 236 morti E 817 feriti A tutti i familiari delle vittime io dico Sì, confesso Confesso E' stata anche per mia colpa Mia colpa Mia grandissima colpa Questo dico anche se non serve Lo stragismo per destabilizzare il paese Provocare il terrore Isolare le parti politiche estreme Per rafforzare i partiti di centro Come la democrazia cristiana L'hanno definita strategia della tensione Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza Roberto Michele Giorgio Carlo Alberto Giovanni Nino E il caro Aldo Per vocazione o per necessità Ma tutti irriducibili amanti della verità Tutte bombe pronte ad esplodere Che sono state disinnescate col silenzio finale Tutti a pensare Che la verità sia una cosa giusta E invece la fine del mondo Noi non possiamo consentire la fine del mondo In nome di una cosa giusta Abbiamo un mandato a noi Un mandato divino Bisogna amare così tanto Dio Per capire quanto sia necessario il male Per avere il bene Questo Dio lo sa E lo so anch'io Tratto dal film Il Divo Di Paolo Sorrentino Attore Tony Servillo Discorso di Giulio Andreotti Sul potere Dedicato a mio fratello Massimo Ciao Ti voglio bene Ciao 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 Grazie.